E anche Gianni Amelio si è al fine dato alla commedia ma occhio si tratta di quella commedia dolce amara tesa sul filo della riflessione socio-economica con decise spruzzate di questioni etniche e filosofiche del tipo oddio l'età che avanza ho paura della morte ma i giovani sono tutti squilibrati non si riesce a tendere un filo fra le generazioni dove andremo a finire a meno che non ci siamo già finiti signora mia Ah Gianni Grazie a tutti